L'opinione pubblica Maurizio è stata anche scossa dalla morte di Navanni, il dissidente russo che è morto in un gulag siberiano, naturalmente tutti gli indizi ricadono su Putin, sappiamo che fine fanno gli oppositori di Putin, ma tu su Navanni cosa dici? Ma io dico che Navanni sarà ricordato ancora per qualche giorno e poi sarà dimenticato come sono stati dimenticati tutti gli altri uomini fatti assassinare da Putin, uomini e donne, la Politovskaia morta nel 2006, fatta uccidere nell'androne di casa sua e sicuramente qualcuno, quel killer ce l'ha mandato anche se non sono stati trovati gli assassini, poi è stata dimenticata esattamente come è stato dimenticato Livtenko, io ricordo da direttore del giornale feci paginate sul caso Livtenko avvelenato al Polonio in Gran Bretagna, se ne ricorda qualcuno, no, hanno continuato a fare gli stessi affari che facevano prima i politici occidentali che oggi tanto si indignano per il caso Navanni, sì, c'è una sfilata di fotografie di signori che sono andati a stringere la mano a Putin, addirittura lo abbiamo invitato anche quando c'era l'Expo, ve lo ricordate, non è venuto in Italia con tutti gli onori, Calenda che oggi si indigna, fa le manifestazioni, nel 2016 la Russia ricordo che aveva già invaso la Crimea, aveva già occupato praticamente un pezzo di Donbass, se ne andò lì dichiarando la profonda amicizia dell'Italia con la Russia e stringendo le mani a Putin, ma era già morta la politoscaia mi risulta, anche da un certo numero di anni, quindi siamo realisti, adesso stiamo parlando di Navanni, tra un po' ce ne lo dimenticheremo perché continuerà esattamente tutto come prima. Marco, breve su questo. Io credo che la responsabilità di Putin sia chiara ed evidente sull'arresto, sulla condanna e sulla detenzione inumana oltre il circolo polare artico, che ci siano le sue impronte sull'assassinio di Navanni, prima di dirlo, dato che faccio il giornalista e non il mago Thelma, aspetto di avere degli elementi, se ne avremo, altrimenti mi astengo, perché se uno facesse il gioco del cui protest, cioè a chi conviene, ha un mese dalle elezioni presidenziali che Putin stravincerà senza forse nemmeno bisogno di fare i brogli, visto che non ha rivali, ma secondo te conveniva più a Putin o all'Occidente, Navanni morto in questo momento. Quindi io mi sottraggo a questa tentazione, perché se devo andare a lume di naso, in questo momento l'unico che non aveva intenzione e interesse ad avere Navanni morto, magari fra sei mesi, ma non un mese prima delle elezioni, perché per quanto scarse siano state le manifestazioni sul posto, comunque in ogni caso Putin stava portando a casa la stanchezza dell'Occidente, la sfida invece dell'Occidente sta usando la morte di Navalny per dire mandiamo altre armi all'Ucraina, come se ci fosse un rapporto tra le due cose, cioè visto che è morto Navalny in Russia facciamo morire altre 10, 20, 30, 50 mila persone in Ucraina. A me sfugge sempre questa logica, però vedo che stanno facendo questo anche nelle manifestazioni in Italia. Quindi io preferirei, dice ma in Russia non sapremo mai la verità, ma quanti testimoni sono morti stranamente rispetto all'omicidio Kennedy? Ma rispetto alla strage di Ustica quante persone hanno avuto degli strani incidenti un minuto prima di andare a testimoniare? Tutti i regimi democratici e dittatoriali hanno i loro arcana imperi. Quindi probabilmente se la morte di Navalny è una trombosi in un posto dove certamente non vivi a lungo o un assassino ordinato da Putin, senza elementi concreti, si può continuare a scriverlo finché si vuole, ma serve fino a un certo punto. La cosa impressionante è appunto quella che diceva Maurizio Belpietro, cioè che c'è gente che fa finta di avere scoperto chi è Putin sabato scorso quando è arrivata la notizia della morte di Navalny o nel 2022 quando è scoppiata la guerra e l'invasione dell'Ucraina, come se non ci fossero già state la Cecenia, la Georgia, la Siria, la Crimea. Questa ipocrisia è insopportabile e quando c'è tanta ipocrisia uno deve andare a grattare dietro e dire perché c'è così tanta ipocrisia? Dove ci vogliono portare con questa ipocrisia? Ormai mi pare chiaro, vogliono armare l'Europa per la terza guerra mondiale contro la Russia e la Cina che naturalmente magari è nell'interesse degli Stati Uniti, può essere, forse è nell'interesse della Gran Bretagna, certamente non è nell'interesse dell'Italia e dell'Europa continentale che dovrebbero fare di tutto per riallacciare i rapporti a Est e per fare una grande conferenza che renda sicuri tutti i paesi che ne hanno bisogno e non soltanto quelli amici nostri.